Ciao a tutti, purtroppo sono risultata positiva al covid e ho un po' di febbre in questo momento, mal di gola, ma insomma le altre funzioni sono sotto monitoraggio, la situazione è tranquilla. E volevo dire che insomma che questa è proprio una bestiaccia di virus, se io che sono particolarmente attenta sono rimasta contagiata, quindi essere contagiati è veramente più facile di quello che pensiamo. Un abbraccio va anche a tutte le altre persone che in questo momento si trovano nelle mie condizioni, io ho i figli negativi, il marito negativo, il problema di come organizzare la famiglia, l'isolamento, la quarantena, non è facile per nessuno. Prestiamo tutti particolare attenzione e veramente un abbraccio a tutti, ciao!